Il culto di Santa Lucia a Trapani era molto radicato ed in città la statua della Santa è tuttora custodita nella chiesa di San Francesco. Anticamente questa bellissima immagine si trovava nella chiesa di Santa Lucia in via Sant'Anna accanto all'attuale archivio di stato e nel suo pavimento c'era la rappresentazione maiolicata della città oggi custodita al Museo Pepoli dove viene raffigurata la pesca del tonno. A quanto pare la chiesa venne costruita in pieno medioevo dai pescatori corallini che si insediarono in questa parte della città dopo l'ampliamento verso Ponente scattato nel 1286 col re Giacomo. E nei privi del Novecento la statua di Santa Lucia venne trasferita nella chiesa dell'Epifania in piazza Gerarescio accanto all'ex convento dei Cappuccini dove veniva venerata dai trapanesi durante i festeggiamenti del giorno 13 dicembre. Da qui l'equivoco di confondere la chiesa di Santa Lucia con quella dell'Epifania oggi purtroppo lasciata in condizioni di abbandono e degrado. Anche la chiesetta di via Sant'Anna non è più un luogo di culto eppure si tratta di due autentici tesori che pulsano di storie trapanesi da ogni angolo che potrebbero essere valorizzate per come meditano. Ed è la chiesa di Santa Lucia che a quanto pare risale al 1300 resta il suo portone d'ingresso che guarda verso la via dei corallai e la chiesa di San Francesco dove si trova la statua di Santa Lucia considerata la protettrice della vista e la patrona di tutti coloro che hanno problemi agli occhi. Tra l'altro il suo culto a Trapani era molto radicato soprattutto da parte dei pescatori di corallo e una lapide del 1630 all'interno della Biblioteca fratelliana ricorda proprio una pesca straordinaria che venne attribuita a Santa Lucia. Grazie a tutti.